Ciao a tutti, eccoci qua, benvenuti! Io sono Giulia e in questo video giocheremo al gioco del labirinto ragnatela. Bene, vediamo insieme come si gioca a ragnatela labirinto. Come potete osservare dal disegno, ci serviranno delle sedie e dei cordini. Se non li avete, potete usare dello scotch carta. Andiamo a posizionare le sedie nella maniera che preferite e poi andremo ad unirle con i diversi cordini. Naturalmente i cordini potranno essere messi ad altezze diverse in modo tale da rendere questo gioco ancora più interessante. E adesso, siete pronti a sfidarvi? A sfidare mamma, papà o vostro fratello, vostra sorella? E allora, cronometro alla mano, facciamo partire il tempo e intanto partiamo dal punto A. Attraversiamo tutta la ragnatela, mi raccomando senza lasciarci intrappolare, e raggiungiamo il punto B. Quanto ci abbiamo messo? Bene, sono sicura che avrete fatto un bellissimo tempo. Potrete continuare ancora di più con queste sfide, immaginando altri modi per attraversare la ragnatela, per esempio camminando all'indietro oppure passandoci sopra e passandoci sotto. Io per adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao, buon divertimento!